ciao a tutti cari amici di dr loomis channel e ben ritrovati per questo nuovo video unboxing questo video spacchettamento in maniera un po inusuale lo faremo durante la settimana lo faccio perché è arrivato un pacco dalla spagna visto che era un pacco che mi interessava aprire insieme a voi o meglio spacchettare i contenuti che ci sono all'interno perché ho dovuto già spacchettare il pacco mi sembrava un pochino strano che mi fosse arrivato una bestia di pacco da amazon spagna di queste dimensioni quando poi all'interno ci sono solo 4 articoli ho acquistato ben 7 prodotti dalla spagna da amazon.es l'amazon spagnolo durante il black friday perché come avrete magari già sentito nella live che ho fatto insieme a moreno di into the 4k questo sabato all'estero ci sono state molte più promozioni a mio avviso per quanto riguarda i prodotti blu ray infatti ho acquistato sia prodotti da amazon spagna ma anche da amazon francia e amazon germania che arriveranno poi nei prossimi giorni sono intanto arrivati 4 prodotti su 7 che avevo ordinato da amazon spagna gli altri arriveranno poi la settimana prossima quindi magari poi farò un video a parte ho già tolto i prodotti da dallo scatolone che come potete vedere è strapieno di queste palle di plastica per proteggere i prodotti non si può dire che gli spagnoli non non tengano all'incolumità dei blu ray cambiamo prospettive vediamo un po di che prodotti si tratta bene allora diamo subito un'occhiata a questi quattro prodotti che sono appena arrivati dalla spagna il primo blu ray che ho acquistato è questa edizione di true lies mentiras a riescadas titolo particolare in spagnolo per questa edizione che esiste praticamente soltanto in spagna chiaramente stiamo parlando di un'edizione non del tutto ufficiale bootleg che però contiene anche la traccia italiana e parlano di un video piuttosto niente male quindi l'ho trovato a sole 6 euro e 50 e ne ho ne ho approfittato purtroppo siamo rimasti al dvd non è mai uscito in in alta definizione quindi figuriamoci in 4k molto strano che di solito i film anche se non tutti non tutti i film di james cameron sono usciti in in blu ray o in 4k pensiamo ad esempio anche ad abyss che se non sbaglio non è mai uscito in blu ray e anche questo bellissimo film diretto da cameron nel 1994 abbiamo come protagonista oltre ad arnold schwarzenegger anche jamie lee cartis un action movie molto simpatico quindi che mescola l'azione con la commedia anche una notevole durata dura oltre due ore intorno ai cento sì 141 minuti questo chiedo scusa per i riflessi abbiamo anche dei contenuti extra che sono in lingua inglese con sottotitoli in spagnolo abbiamo un making off di 22 minuti una featurette di 7 minuti la premiere di 6 minuti taser spot televisivi e trailer del film poi abbiamo delle interviste una fatta da arnold schwarzenegger di 6 minuti e di 5 minuti abbiamo l'intervista jamie lee cartis e l'altra james cameron tracce audio abbiamo castellano per lo spagnolo in dts hd 5.1 poi dolby digital 2.0 in inglese il dts hd 5.1 in dolby digital 5.1 abbiamo il tedesco e il francese per l'appunto anche l'italiano e italiano abbiamo anche i sottotitoli facoltativi durante il film queste sono le immagini sul retro diamo un'occhiata anche all'interno molto semplice con la serigrafia della locandina sul disco e quindi mettiamo da parte questo questa edizione ripeto li ho pagati tutti intorno ai 5 euro e 50 e i 6 euro e 50 in più c'era anche un voucher di 5 euro quindi ho utilizzato quel voucher e alla fine con quel voucher mi sono risparmiato le spese di spedizione possiamo dire poi il prossimo titolo il film mask in spagnolo lo chiamano maschera titolo italiano invece dietro la maschera film diretto dal regista peter bogdanovich nel 1995 per questo bel film un film drammatico con protagonista l'attore eric stolz che interpreta il ruolo realmente esistito di rocky dennis se non sbaglio il film è stato girato prima di ritorno al futuro quindi dopo questo film per la quale l'attore era stato anche candidato all'oscar venne poi chiamato a interpretare il ruolo di marty mcfly prima di essere poi licenziato e sostituito dal grande michael j fox però per quanto riguarda la candidatura all'oscar per eric stolz mi viene il dubbio forse ho sbagliato era forse stato candidato il film come miglior trucco sì non come miglior attore chiedo scusa diamo un'occhiata quindi a questa edizione distribuita dalla universal questa invece è un'edizione ufficiale non è un bootlep per quanto ne so però è anche un'edizione che non ricordo di aver mai visto in italia quindi non so se mai è stata distribuita un'edizione italiana di questo film diamo un'occhiata più da vicino quindi alle tracce audio abbiamo inglese e castellano in dts hd master audio 2.0 poi abbiamo il francese l'olandese italiano in dolby digital 2.0 non abbiamo nemmeno i sottotitoli in italiano abbiamo soltanto l'inglese e lo spagnolo vediamo le immagini sul retro davvero un bel film a me è piaciuto molto questo film ottima l'interpretazione di eric stolz e questo è il disco all'interno in questo istante non so quanto costi sul sito spagnolo però se lo trovate a questo prezzo secondo me ne vale la pena 6,50 euro ne vale davvero la pena sia per questo che per true lies e per gli altri due titoli che adesso andremo a vedere prossimo titolo è il film murder in the first conosciuto in italia con il titolo l'isola dell'ingiustizia alcatraz mentre in spagna si chiama omicidio in primer grado grande cast christian slater, kevin beckham, gary oldman film diretto da mark rocco che sinceramente non ricordo abbia diretto altri film di rilievo magari mi sbaglio ma non l'ho mai sentito e questa edizione, anche questa dovrebbe essere un'edizione bootleg che non è mai stata stampata in italia comprende la traccia italiana quindi avviciniamoci subito nel reparto idiomas ovvero le lingue abbiamo il castellano in dolby digital 2.0 il francese e l'italiano sempre in dd 2.0 mentre in inglese abbiamo il dts hd master audio 2.0 sottotitoli in castellano inglese tedesco francese italiano e portuguese come extra abbiamo un making of 123 minuti diamo un'occhiata all'immagine sia del retro che su quella frontale adesso che non c'è più la plastica dovrebbe vedersi meglio chiedo sempre scusa per quanto riguarda i riflessi ho acquistato questa lampada ma c'è comunque sempre il riflesso vedete? c'è il riflesso quindi mettiamoci in quest'altro modo vediamo l'interno, sempre molto semplice, non c'è nessun bucle e adesso passiamo all'ultimo titolo e questo è un titolo che io sinceramente desideravo da diverso tempo il film in questione è communion un film di fantascienza con l'attore protagonista Christopher Walken diretto alla fine degli anni 80 era l'88-89 finché ho visto tantissimi anni fa in Svizzera quindi l'ho visto in lingua tedesca ma a me questo film è piaciuto e quindi ora sono passati almeno 25 anni più o meno, era la metà degli anni 90 quando l'ho visto infatti sono molto curioso di rivederlo che non lo ricordo più tanto bene però mi era rimasto impresso perché parla del rapimento degli alieni era molto interessante come trama e questa edizione come le altre True Lies e Alcatraz si tratta di un'edizione non del tutto ufficiale che però comprende la traccia italiana infatti troviamo spagnolo 2.0, inglese 2.0 e italiano 2.0 sottotitoli in spagnolo, inglese e italiano 2.35, si è il film dell'89 durata 105 minuti queste sono le immagini sul retro diretto da Philip Mora e questa invece è l'immagine frontale costina un po' come i francesi girano la costina dell'altra parte e l'interno è molto semplice questi quindi sono i quattro titoli poi me ne mancano altri tre arriveranno nei prossimi giorni quindi poi farò un altro video per mostrarvi anche gli altri tre arrivi bene quindi questi erano i prodotti che sono intanto arrivati da Amazon Spagna ne manca ancora qualcuno ve li farò vedere nei prossimi giorni vi ricordo che questo weekend ci sarà sempre il solito video spacchettamento del weekend io vi ringrazio di aver seguito questo video se è stato di vostro gradimento metteteci pure un like lasciate un commento ditemi che cosa ne pensate dei prodotti e noi ci vediamo molto presto per un altro video unboxing ciao a tutti ciao a tutti